Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono qui oggi per tessere le lodi di una fotocamera piccola ed è probabilmente la mia ultima occasione per tesserne le lodi prima che cada completamente nel dimenticatoio. Stiamo parlando della Canon EOS M50 prima versione, esiste una versione 2, ma in questo caso vi faccio vedere la versione 1 perché è l'unica in mio possesso. Ora se me lo permettete vorrei buttare due minuti, ma veramente due minuti, per parlarvi del mio ultimo acquisto. Si tratta di un cartoncino che è un color checker fondamentalmente, quindi a che cosa serve? Andiamo ad aprirlo, qui dentro c'è il manuale e tutta una serie di cose che non leggerò probabilmente mai. Andiamo a vedere che qui dentro c'è una busta, una busta assolutamente impermeabile alla luce e questo è essenziale perché questo deve essere mantenuto al buio altrimenti finisce per scolorarsi. Andiamo a estrarlo, sapete che cos'è questo? Qualcuno avrà probabilmente già indovinato. Questo qui è un color checker, quindi fondamentalmente serve per fare il colore sui nostri video. Quindi io lo tengo in questa posizione fondamentalmente, lo tengo in un punto in cui riceva esattamente quella che è la luce della mia scena e basandomi sui colori e sul punto di grigio, punto di bianco che io vedo su questo cartoncino, sono in grado in post produzione di determinare quali sono i colori reali della mia ripresa. Quali che siano le condizioni di luce, io in post produzione sono in grado di ricostruire un colore che sia il più realistico possibile. Questa è una cosa che si fa molto nel video, si fa molto anche nella fotografia di prodotto perché ogni tanto può servire di dover replicare esattamente quello che è il colore del prodotto. Devo dire che è una cosa che mi sta succedendo sempre più spesso, che mi venga chiesto di avere dei colori accurati, quindi ne ho già uno di color checker che è più piccolo o tascabile che tengo in borsa, però questo qui è più grande e quindi mi rende spesso la vita più facile nel caso di scene un pochino più complesse, soprattutto se sto usando delle lenti particolari, perché questo essendo più grande io posso collocarlo nella mia scena e rimane molto più visibile, quindi riesco con più facilità a fare la mia post produzione e ricostruire un profilo colore adeguato per le mie riprese. E ora che abbiamo parlato dei colori, torniamo al topic del nostro video. Perché dico che potrebbe essere l'ultima occasione? Beh, perché questa camera è stata dichiaratamente rimpiazzata dal nuovo modello, la Canon EOS R10, che è in uscita a breve, la troveremo a breve nei negozi, ed è una fotocamera che è decisamente più performante rispetto a questa, ha delle caratteristiche che la rendono molto molto interessante e come prezzo non sono neanche troppo lontane, perché questa fotocamera attualmente mi sembra di averla vista su Amazon intorno ai 500 euro, ma quando è uscita costava molto di più. Per quanto riguarda Canon EOS R10, si attesta su un prezzo che è un pochettino più alto, però non è lontanissimo dal prezzo di uscita, dal prezzo di lancio di questa fotocamera, quindi sono delle fotocamere che hanno tantissime cose in comune, hanno anche dei grossi punti di differenza. Ma questo non è un video comparazione, anche perché io non ho ancora avuto la possibilità di provare una Canon EOS R10, per cui vado direttamente a parlarvi della EOS M50. Particolarmente interessante perché nonostante le dimensioni incorpora un sensore CMOS da 22,3 x 14,9 mm, quindi è un sensore che è equiparabile a quello che troviamo nelle vecchie camere APS-C, quindi nelle vecchie fotocamere come possono essere il mio muletto, la EOS 700D, piuttosto che una 70D, hanno un sensore che è molto molto simile. Andiamo a vedere i megapixel effettivi di questa fotocamera e troviamo 24.1 megapixel, quindi questa fotocamera ha gli stessi megapixel effettivi della Canon EOS 80D, quindi una delle fotocamere che io utilizzo tuttora per fare video anche a livello professionale. È quindi un ottimo sensore che dà anche un ottimo file d'uscita. Come processore d'immagine troviamo un bellissimo digicotto. Oggi il processore digicotto è superato, pensate che sui modelli più recenti siamo arrivati, mi sembra nel momento in cui faccio questo video, siamo arrivati al digic10, quindi è un processore superato, però è un processore che ha lavorato e lavora ancora molto bene, quindi non è una componente da buttare via. Per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo un'ottima compatibilità su questa camera, perché essendo una mirrorless, quindi essendo di concezione nuova, tramite degli anelli adattatori può montare una grandissima varietà di lenti. Troviamo la maggior parte delle lenti Canon e la maggior parte delle lenti compatibili Canon. Quindi nonostante questo corpo macchina sia fondamentalmente molto piccolo, non dico tascabile, però è da borsetta, è un muletto perfetto perché si infila in borsa, occupa pochissimo spazio, pesa pochissimo, però può montare anche delle lenti professionali. E questo lo rende un mezzo abbastanza versatile, perché su un sensore come questo poter montare tutto il parco lenti che abbiamo già a disposizione non è cosa da sottovalutare. Per quanto riguarda la messa a fuoco, anche qui troviamo il Dual Pixel CMOS EIF, quindi il sistema di Canon di messa a fuoco che è molto molto efficace, che troviamo sui modelli più progrediti, ma lo troviamo anche su questo modello, che non è certo progredito, è alle soglie dell'entry level, eppure troviamo una tecnologia abbastanza avanzata anche su questo modello. Questo proprio perché Canon solitamente, come filosofia di sviluppo dei prodotti, nel momento in cui implementa una nuova tecnologia, la riversa poi a cascata anche sui modelli minori. Questa è una cosa molto bella, perché significa che noi possiamo andare a spendere una barca di soldi per prenderci un'ammiraglia, ma se non abbiamo bisogno dell'ammiraglia, se vogliamo qualcosa di meno performante, perché non ci serve tutta quella performance, andiamo a prenderci un modello meno progredito, ci ritroviamo delle caratteristiche che hanno comunque qualcosa di derivato dall'ammiraglia, di derivato dai modelli alti. Quindi in questo caso ereditiamo un sistema di messa a fuoco che fa assolutamente la sua porca figura, quindi un sistema di messa a fuoco continuo che durante il video ci permetterà di avere delle riprese quasi sempre a fuoco con un'intelligenza artificiale che se la cava, quindi che ci permette di delegare alla camera la maggior parte delle scelte di fuoco. Ovviamente se vogliamo fare cambi di fuoco complessi, torniamo a mettere in manuale e andiamo a gestircela a mano. Però per quanto riguarda l'identificazione dei volti e in generale la decisione, se mettere a fuoco quello che sta in primo piano o quello che sta sullo sfondo, questa camera se la cava abbastanza bene. Devo dire che io giro abitualmente con Canon EOS R, questa fotocamerina non sfigura di fronte a Canon EOS R, probabilmente sfigura di fronte a R5, R6 che non ho ancora avuto il piacere di testare. Però se la gioca quasi alla pari con una full frame mirrorless sempre di casa Canon. Quindi comunque racchiude un comparto tecnologico di tutto rispetto, è una camera che se usata nella maniera corretta può regalare soddisfazioni e lo può fare con un ingombro veramente veramente minimo. Per quanto riguarda i punti di messa a fuoco ne abbiamo più di quelli che ci serviranno in tutta la nostra vita, perché passiamo da 143 a 99, questo a seconda dell'obiettivo che stiamo montando, a seconda dell'anello adattatore, a seconda di un po' di cose, possono cambiare i punti di messa a fuoco che abbiamo a disposizione. Però comunque tenete conto che soprattutto per uno come me, io sono abituato a lavorare su delle fotocamere che ne avevano 9. Io sono abituato con 9 punti di messa a fuoco e sono abituato a usarne uno soltanto, quello centrale. Quindi per me averne 100 è, da un lato è follia, dall'altro è meraviglioso, ma a quel punto le scelte per me sono due. Se sto facendo fotografia userò sempre il punto di messa a fuoco centrale e tanti saluti ai suonatori. Se invece sto facendo video, a quel punto, se sto usando la messa a fuoco automatica, a quel punto lascio che sia la camera a gestire il 100% della mia inquadratura e quindi lascio proprio fare a lei. Lascio che metta a fuoco, non dico dove vuole, perché poi posso andare col dito, con il display touch, posso andare col dito a dire alla camera che cosa voglio che metta a fuoco e la sua intelligenza artificiale mi permette di loccare un soggetto e tenerlo a fuoco. Quindi è un sistema che mi permette anche di essere versatile. Però per me i casi sono due. O scatto, quindi faccio fotografie, quindi uso il punto di messa a fuoco centrale, o altrimenti se faccio video lascio abbastanza che la fotocamera faccia il suo e delego alla mia messa a fuoco manuale solamente quelle poche, ormai sono veramente poche, situazioni in cui devo fare dei cambi di fuoco e lo voglio esattamente in un certo punto dove magari l'automatismo non arriva. Ma sono veramente pochi quei casi ormai. Io di questo sono molto contento perché la mirrorless è uno strumento che a me non piace. Non mi piace che vada a rimpiazzare le vecchie reflex perché a me piacevano di più quelle. Mi piacevano di più sia come grip, sia come ergonomia, sia come modalità d'uso. Mi piacevano di più in tutto e per tutto. Anche come prezzo mi piacevano di più. Però dal momento che questa tecnologia è entrata prepotentemente, ci troviamo tutti costretti a fare lo switch verso le mirrorless prima o poi, diciamo che il mio switch consiste nell'utilizzarle per fare prevalentemente video. E quindi siccome le uso per fare video, la cosa che mi piace molto della mirrorless è che mi permette di essere un pochettino più tranquillo perché un sacco di cose che prima dovevo gestire a mano adesso vengono gestite dalla fotocamera. È importante conoscere la propria strumentazione e sapere che ci sono cose che posso delegare alla fotocamera e altre cose dove invece devo continuare a farle io a mano. Se uso la mia intelligenza per gestire questi passaggi e quindi so quando lasciar fare alla camera e quindi quando posso riposarmi e stare tranquillo e quando invece devo intervenire, ecco che la mirrorless diventa uno strumento che mi permette di, non dico lavorare meglio perché il risultato che ottengo è esattamente quello di prima, però mi consente di fare meno fatica. Nell'ottenere lo stesso risultato e questa cosa ci piace assai. Come vi dicevo nel frattempo mentre registro questo video sto scrollando sulle specifiche tecniche perché l'ho acquistata molto tempo fa ormai questa camera e quindi non mi ricordo più le specifiche tecniche. Però scrollando mi ricordo appunto che comunque questa fotocamera ha l'AF tracking per i volti e per gli oggetti, quindi è una fotocamera che riesce a tenere traccia con l'intelligenza artificiale di quello che le diciamo che vogliamo mettere a fuoco dentro nella nostra inquadratura. Quindi se io vado a fare tap sul monitor, sulla faccia di qualcuno, questo qualcuno verrà tenuto a fuoco anche se si sposta. Questa è una cosa che per un videomaker è oro. Pensate a uno che sta facendo un'intervista magari con una lente con una bella apertura, quindi con una profondità di campo ridotta. Avere la possibilità di mettere a fuoco gli occhi dei soggetti e quindi avere sempre tutto bello a fuoco anche se il soggetto chiaramente si muove è una cosa che non ha prezzo. Non bisogna più stare lì a toccacciare la lente e quindi sballottare anche l'inquadratura e fare molta fatica perché comunque stare lì a continuare a focheggiare è una fatica. Ora ci possiamo rilassare e lasciare che la fotocamera faccia il suo lavoro. E questa camerina fa un lavoro veramente eccezionale nel tenere a fuoco i volti se stiamo parlando di un contesto statico. Ovviamente è stata un pochettino bistrattata perché alcuni vlogger sostenevano che non è facilissimo mettersi a fuoco mentre si cammina nel parco con la fotocamera in mano. Ora, è vero, in quei casi possono esserci dei controluce che fanno sfasare la ricerca di contrasto della messa a fuoco e quindi possono esserci dei problemi. Però in un contesto come quello che vi propongo io di solito perché è un contesto controllato, luce controllata, interni, qui ho tutto sotto controllo, la fotocamera sta lì sul suo treppiedino o poggiata dove cavolo vogliamo noi, io vi garantisco che la performance è veramente stellare. Non c'è un problema con la messa a fuoco di questa fotocamera. Se siamo in un contesto controllato dove abbiamo sistemato ogni cosa come la volevamo e abbiamo un buon contrasto tra il soggetto e lo sfondo non avremmo mai un problema di messa a fuoco. Ora, per quanto riguarda la sensibilità ISO, anche qui questa camera è interessante. Infatti per la fotografia ci muoviamo in un range che va da ISO 100 a ISO 25600 che, ragazzi, è tantissimo. Io spero veramente che nessuno abbia mai bisogno di una sensibilità del genere. Di sicuro io non la userò mai una cosa del genere. Addirittura è possibile estenderla fino a ISO 5000 e qualcosa, ma qui è veramente follia, cioè è veramente una perversione. Una cosa del genere, secondo me, non serve e non deve servirci mai. Però siamo sempre lì, perché comunque il fatto che sia possibile espandere gli ISO in questa maniera significa che a sensibilità ISO più umane la camera performerà molto meglio rispetto a un modello più antiquato che si fermava a ISO 6400, per esempio. Quindi questa soluzione con questo sensore e con questo processore di G-Cotto comunque ci permette di andare a lavorare molto meglio rispetto a qualche anno fa e questa camera ha delle performance che stanno al pari con quelle di fotocamere ben più costose usciti anni prima. Quindi è una cosa da non sottovalutare questa perché chi acquista questa camera oggi è come se stesse acquistando un modello molto più progredito di 5-6 anni fa e i modelli progrediti di qualche anno fa comunque rispettavano degli standard che vanno ancora bene, ancora oggi. Quindi questa è una fotocamera che consegna uno standard assolutamente passabile. Una cosa per cui io non vado matto è questa differenza di performance tra fotografia e video. Per cui per esempio questa fotocamera non ha la stessa sensibilità ISO tra la foto e il video. Infatti per il video si ferma a ISO 12800. È comunque una bella sensibilità è comunque una sensibilità a cui io spero vivamente che nessuno arrivi mai anche perché dopo ISO 6400 professionalmente non bisognerebbe mai andare. Però possono esserci dei casi in cui magari uno dice magari per esperimento o magari per necessità voglio spingermi oltre c'è la possibilità di arrivare fino a ISO 12800. Io vi consiglio di non andare oltre i 3200 su una camera come questa perché comunque non è full frame e quindi anche a seconda della lente che mettiamo dovremo cercare una soluzione che ci permetta di mantenere gli ISO un pochettino più bassi. Altrimenti cominciamo ovviamente ad avere una caduta qualitativa una perdita di gamma dinamica ed è un peccato perché molto spesso è sufficiente accendere una lucina o avvicinare una lucina o registrare a un'altra ora del giorno o comunque fare delle scelte avvedute per avere un'illuminazione che ci permetta di tenere gli ISO abbastanza bassi o comunque in un range tollerabile. Vi dico per esempio che io solitamente quando registro questi contenuti utilizzo ISO 320 e sto utilizzando delle lenti che hanno delle aperture non giganti per esempio in questo momento sto usando il 24-105 serie L che ha un'apertura di f4 io la tengo a f4 perché già non c'è tantissima luce qui quindi non voglio chiudere ulteriormente il diaframma non ne avrei nessun beneficio quindi lo tengo a f4 e quindi sto girando comunque a un cinquantesimo di secondo e sto girando a ISO 320 non vado a girare con gli ISO più alti tengo più bassi possibile quindi magari cerco di trovare un bilanciamento con le luci in maniera tale da tenerli bassi se potessi andare a ISO 200 sarei ancora più contento in realtà però questa è una fotocamera full frame potrei tranquillamente tirarla fino a ISO 2000 quindi diciamo che così va più che bene è una soluzione che mi permette di tenere le luci non troppo alte ricordatevi sempre che più bassi riusciamo a stare con gli ISO migliore sarà la qualità dell'immagine sia per la foto che per il video. Altre cose che mi piacciono moltissimo di questa fotocamera innanzitutto ha l'oculare quindi è un oculare digitale ovviamente come la maggior parte delle mirrorless se non tutte un oculare digitale che comunque rende abbastanza bene ha il suo schermino che si può girare e tiltare questo è molto molto comodo io non sono fan di questo tipo di aggeggi io preferisco le fotocamere che non ce l'hanno questo affare perché lo reputo un appendice molto fragile è la prima cosa che si rompe è la prima cosa che prende botte quindi non lo amo però devo dire che si possono sicuramente fare delle angolazioni interessanti che altrimenti sarebbero proibitive soprattutto una soluzione di questo tipo mi mette in condizione di fare delle inquadrature rimanendo agile senza dovermi portare dietro un rack o un rig o qualcosa di più ingombrante come un monitor esterno perché siamo capaci tutti attacchiamo un monitor esterno e anche io metto la camera in basso e mi tengo il mio monitor esterno in mano faccio tutto quello che voglio e sto anche più comodo però mi sono dovuto portare dietro più roba invece questa soluzione è molto molto comoda e mi permette anche di vedere in tempo reale quella che è la mia esposizione quindi questa è una cosa che io ho molto rivalutato soprattutto nel video perché un conto è in fotografia fotografia quindi di studio io posiziono le mie luci so esattamente o quasi quello che sto facendo quindi in due scatti di prova ho raggiunto il risultato che voglio nel video è un po' più complicato nel video è meglio se vedo quello che sto facendo se posso vedere un istogramma se posso vedere una resa di tutta quanta la mia scena anche perché magari devo fare dei movimenti di camera e questa come vi dicevo io la uso esclusivamente per fare video quindi è molto importante per me avere sotto controllo l'esposizione di tutta la mia scena e di tutto il mio percorso se faccio una scena in movimento quindi è una cosa che mi aiuta molto il fatto di vedere la simulazione dell'esposizione direttamente a monitor e parlando del monitor e del viewfinder questa camera ha una copertura del 100% o quasi 100% dichiaratamente c'è scritto quasi 100% sulla brochure quindi saremo sul 99% questo è molto carino perché ci permette di avere il nostro frame al 100% visualizzato sia nell'oculare che sul monitor quindi non andiamo ad avere differenze di composizione nel momento in cui arriviamo a casa e sbobiniamo il nostro materiale cosa che succede su tanti altri modelli anche più progrediti di questo altra feature molto interessante questa fotocamera ha sia un flash pop up interno non vi so dire come funziona perché non l'ho mai utilizzato e non credo che succederà però c'è e quindi comunque sapere che c'è è una sicurezza in più perché se siamo in emergenzissima se c'è una questione di vita o di morte ce l'abbiamo e quindi siamo tranquilli anche da quel punto di vista io non lo userò mai però c'è e cosa ancora più interessante c'è la hot shoe per attaccare un trigger o un flash professionale qui abbiamo il solito attacco canon quindi questo è compatibile con tutti i flash canon e con i trigger quindi io potrei mettere il mio trigger l'X Pro C di Godox potrei attaccarlo su questa camera e potrei scattare con questa camera con i miei flash professionali quindi questa è una feature molto carina perché un sensore come questo abbinato a un corpo macchina di questo tipo che mi permette di controllare i flash significa che questa camera può sembrare un giocatolino però nelle mani giuste la si può usare anche per lavorare bene ma così sembra che ve ne sto parlando solo bene andiamo a vedere qualche pecca perché comunque ne ha allora prima fra tutte la batteria la durata della batteria di questa camera è veramente insufficiente per un utilizzo professionale si scarica veramente in fretta è una camerina piccola la batteria è anch'essa piccola e quindi è una batteria con una durata limitata per un utilizzo professionale è molto rischioso utilizzare una fotocamera come questa a meno di non avere almeno almeno tre batterie ma almeno perché comunque tempo di utilizzo di questa camera è molto inferiore a quelli che sono gli standard per un'occupazione professionale con una camera come questa io l'ho testata ovviamente affiancata ad altre fotocamere quindi non sono andato solo con questa questa si è scaricata in un quarto del tempo rispetto alle altre quindi è una fotocamera che mi permette di lavorare bene ma non mi permette di lavorare a lungo vuoi perché è mirrorless e quindi il monitor è perennemente acceso vuoi perché la batteria comunque è piccola non è molto capiente e soprattutto se la usiamo per fare video tenderà a scaricarsi molto molto in fretta fattori che possono addirittura accelerare la caduta della batteria sono il clima perché se abbiamo un clima molto molto caldo o molto molto freddo questo può influire molto negativamente sulla batteria in particolare io ho sempre sentito che il freddo tende a dimezzare quasi la vita di una batteria nel momento in cui la stiamo utilizzando professionalmente sul campo ma devo dire che con il caldo torrido di quest'anno ho riscontrato diversi problemi anche per via del caldo quindi batterie che si surriscaldano prima sensori che si surriscaldano prima e quindi bisogna fermare i lavori perché la fotocamera non performa più perché si è surriscaldata e quindi entra in funzione un blocco e non si può continuare a lavorare ora questo succede anche sulle fotocamere di fascia altissima perché se stiamo sotto il sole del deserto tutto il giorno la fotocamera si surriscalderà sempre e dovremo sempre interrompere però su questo modello devo dire che succede abbastanza in fretta soprattutto se stiamo girando in 4K sì perché questa fotocamera permette di lavorare in 4K ovviamente dobbiamo avere una memory card molto molto veloce nella scrittura se no si incaglia subito però noi possiamo registrare in 4K con questa fotocamera il che è interessante altra cosa interessante questa fotocamera e vi lascio in card un video in cui faccio vedere il procedimento questa fotocamera permette di importare un profilo colore che si chiama CineStyle generato da Technicolor quindi profilo colore di queste cose ne macina abbastanza che serve per simulare il formato log come vi sto facendo vedere da un po' di video a questa parte all'inizio di tutti i miei video vi faccio vedere com'è il girato originale della Canon EOS R in formato C-Log e vi faccio vedere com'è il video processato quindi con color grading con i colori applicati è una cosa che si fa abitualmente nel cinema si fa abitualmente quando si vuole la massima flessibilità possibile in fase di editing in questo caso a me non serve a niente lo sto facendo solamente per mostrarvelo per farvi vedere che questa cosa si può fare per farvi vedere che risultati dà diciamo che non c'è un vero scopo per cui lo sto utilizzando se non quello dimostrativo di farvelo vedere potrei tranquillamente girare in un qualsiasi formato preimpostato video ma in questo caso preferisco girare in log così ve lo faccio vedere ecco questa fotocamera non ha nativamente il formato log però ha la possibilità di importare il profilo CineStyle che simula un formato log quindi non è la stessa cosa non mantiene la stessa quantità di informazioni non permette la stessa invasività di manipolazione successivamente alla ripresa però ci va vicino comunque la direzione è quella comunque con questa camera si possono fare degli esperimenti di color correction e color grading e si può arrivare a vedere dei risultati e capire quali sono le possibilità e le potenzialità di uno strumento più evoluto come una fotocamera che abbia un formato log vero nativo questi sono punti di grandissima forza per una fotocamera come questa tenete conto per esempio che la nuova fotocamera che va a rimpiazzare questo modello che è la Canon EOS R10 non avrà il formato log nativo quindi di nuovo siamo sempre relegati a dover decidere se comprare una fotocamera di una fascia un po' più alta che abbia la possibilità di girare in log oppure no oppure rimanere su una fotocamera chiaramente entry level che il formato log non ce l'ha e Canon non te lo dà quel formato proprio perché dice se stai comprando un entry level sei un entry level e quindi non ti serve il log perché il log è difficile da gestire se vuoi il log sei un professionista e se sei un professionista prendi una camera professionale io vedo che molti se la prendono quando vengono a contatto con questo tipo di ragionamento ma in realtà è la cosa più normale del mondo perché la casa produttrice sta cercando di fare contenti tutti quanti ovviamente un amatore che dice io non voglio spendere tanto voglio spendere poco però voglio le stesse cose che hanno i professionisti non si sta facendo un favore perché andrebbe a comprare una cosa che poi fa fatica a usare i modelli entry level sono pensati per una facilità di utilizzo che sui modelli professionali non c'è più ci sono molti più bottoni sono molto più difficili da utilizzare da gestire quindi questo è un modello facile da gestire è un modello dove hai tutto sulla punta delle dita è un modello molto comodo da usare io lo uso prevalentemente per fare b-roll ma lo utilizzo anche talvolta come prima camera perché appunto gira comunque in 4k gira comunque in un formato simulato log e quindi mi permette di fare delle belle cose e se sto facendo un lavoro non troppo impegnativo dove magari ho altra roba addosso altre borse altre fotocamere e voglio essere snello ma avere comunque una mirrorless ecco che questa diventa un'ottima soluzione ovviamente è ottima per vloggare ovviamente è ottima per fare video molti video che ho fatto su questo canale sono girati con questa camera prima che prendessi la Canon EOS R quindi è una camera che ho usato e utilizzo ancora con grande piacere sostanzialmente veniamo ai motivi per cui ve la racconto soltanto adesso beh è un po' per pigrizia perché non ho voluto tirarla fuori dal cilindro prima poi ho parlato di modelli un pochino più avanzati questo è un modello tutto sommato poco costoso tutto sommato poco professionale che le mancano tante cose è molto carente sotto certi punti di vista le manca tutta una serie di cose che la renderebbero professionale ma dichiaratamente questa camera non è professionale è una camera entry lever per fare vlog per piacere un po' a tutti quelli che non sono professionisti quindi è una camera comoda e infatti io anche da professionista la trovo comoda è vero che le mancano tante cose però se si prende quello che ha di buono è una camera veramente molto godibile e diventa anche versatile nel momento in cui andiamo ad abbinarla con tutta una serie di ottiche che possiamo avere già e che rimangono poi compatibili con tutto il nostro parco macchine di Canon a questo punto vi chiedo qualcuno di voi sta utilizzando Canon EOS R7 o EOS R10 se si lasciatemelo sapere in un commento perché io sono impaziente di mettere le mani su queste due fotocamere sono impaziente di testarle perché mi interessano moltissimo le ho trovate molto interessanti dalla presentazione di Canon e prima o poi prima o poi sicuramente metterò le mani almeno su una delle due lasciatemi sapere se qualcuno le ha provate se vi sono piaciute lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che qualche informazione utile ce l'avrete anche trovata vi ricordo di iscrivervi al canale perché sono in arrivo tanti nuovi contenuti e signori con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti